Guardate cosa facciamo ragazzi, in questo video noi dobbiamo fare questa missione Star Labs di Injustice Gods Among Us, oggi se guardate tutti insieme la recensione ora Gabriosta ve lo farà vedere. Sapete cosa si deve fare con Flash? Ve lo dico, gareggia attorno al mondo con Superman per trovare per primo le informazioni sull'ex Luthor, premi rapidamente un tasto qualsiasi per riempire la barra del turbo, quando è piena premi R2 per usare il turbo. Facciamolo, bisogna premere ripetutamente i tasti, bisogna arrivare a 200 prima di Superman, vediamo se ce la faremo, non sarà facile ma io ci provo, sono in vantaggio, ho vinto! Vittoria! Se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, come sempre, parola di Gabriosta, riordatevi che io sono il re dei videogiochi che non delude mai, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Insomma ci sta piacendo Injustice Gods Among Us, è un picchiaduro dedicato a tutti gli eroi della DC Comics, arrivederci a tutti, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima, ciao da Gabriosta e guardate sempre ogni video recensivo. E poi fidatevi di me, io ho sempre detto le ose o me stanno.